In quel momento rientra dall'estero Berlusconi, fra applausi, perché il Milan aveva vinto per la prima volta la Coppa Intercontinentale. Mi saluta da lontano e resto con Galliani. Galliani mi invita a cena, che fa adesso lei? Ma io per adesso faccio giornalista un po' dappertutto. Diciamo che cerco un direttore. Galliani mi dice e noi cerchiamo un direttore. Telefonata a Berlusconi, invito a casa privata di Berlusconi. Vuol venire a lavorare con noi? Prende un pezzettino di carta annotato così, totte di stipendio, totte di questo, totte di questo. Chiama il direttore del personale, verrà da lei Emilio Fede. Lo assumiamo. L'offerta che abbiamo fatto era poter essere il direttore di un telegiornale come volevo farlo io.